No al razzismo. L'attelerico Battipaglia del 26enne presidente giocatore Armando D'Ambrosio si conferma al fiere di un messaggio positivo nel mondo calcistico salernitano. Il sottalizio della Piana del Sele che milita in terza categoria, infatti domani in occasione della gara tra le mura mica dell'Angel Bellizzi, scendere in campo con una maglietta contro il razzismo come fatto dall'Inter. Già lo scorso novembre, proprio l'attelerico Battipaglia, prima della gara interna con l'Altavilla Silentina, indossò una maglia per dire basta alla violenza sugli arbitri.